non so non so se la vita è corta o troppo lunga per noi ma so che nulla di ciò che viviamo a sentimento se non tocchiamo il cuore delle persone molte volte basta essere collo che accoglie braccia braccia che apporgono parola che conforta silenzio che rispetta allegria che contagia lacrime lacrime che scorre sguardo sguardo chiaccarezza desiderio che soddisfa amore amore che promuove è questo e questo non è cosa d'altro mondo è ciò che dà sentimento alla vita è ciò che fa che lei non sia né corta né troppo lunga ma che sia intensa vera pura fino fino a quanto dura grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti